Natale sotto le stelle 2018, Comune di Sava, assessorato al turismo e allo spettacolo. Programma degli eventi dal 22 dicembre al 10 gennaio. Dal 21 al 27 dicembre, concorso a premi di mini presepi e bene ad abitare in mezzo a noi. 22 dicembre, Maratona di Natale 2018, campagna solidale Teleton. Grande divertimento per bambini ed adulti aspettando il magico Natale quarta edizione. Mercatini Natalizi dalle ore 17. 23 dicembre, Zampognari e Sava, la magia degli Zampognari del Salento. Mercatini Natalizi dalle ore 9, concerto natalizio. 27 dicembre, Buon anno in canto, gruppo teatrale Passio Cristi. 28 dicembre, concerto del quartetto d'archi Le Faboulet. 29 dicembre, presentazione libro La magia nel Salento. 30 dicembre, concerto Natus Est. 1 gennaio, gran concerto di Capodanno presso la parrocchia Santissimi Medici. 4 gennaio, commedia La Lampada d'Oro. 5 gennaio, tombolata della Befana, appuntamento con la solidarietà. Aspettando la Befana, laboratorio di cucina per bambini. 6 gennaio, arrivo della Befana, distribuzione calze offerte dall'amministrazione comunale. 10 gennaio, dona una nota. So this is Christmas. Sava vi aspetta! Buone feste a tutti! Sava vi iniziata a cura di uncu di Weinstein. Grazie a tutti.